Assolutamente favorevole. Credo che sia fondamentale vaccinarsi, anzi, per alcune categorie, oltre ovviamente al personale sanitario, noi proponiamo addirittura l'obbligo, per esempio per gli insegnanti, perché vorremmo che la scuola potesse riaprire in presenza già a settembre. Per il personale sanitario, anche per il personale scolastico e gli insegnanti, proprio per consentire la scuola in presenza. Lo sapete, per Italia Viva è una battaglia che parte da lontano, quello di garantire ovviamente gli studenti e le studentesse nella possibilità di avere una didattica in presenza, per l'insegnamento sicuramente, ma anche perché la scuola spesso è presidio contro anche elementi di fragilità, di degrado, a cominciare dal fatto che in alcuni casi abbiamo visto i bambini che avevano a scuola l'unico pasto della giornata. Lei sa che i sindacati sono contrari alla vaccinazione del personale scolastico? Lo sappiamo, abbiamo chiesto però al Ministro dell'Istruzione e al Governo tutto, ovviamente a cominciare dal Ministro della Salute al Ministro Speranza, su questo di avere un confronto aperto, cercando di convincere anche i sindacati, il personale della scuola e gli insegnanti sulla necessità di vaccinarsi per poter, in sicurezza per loro e in sicurezza per gli studenti e per le famiglie degli studenti, riprendere l'attività didattica. Sicuramente il Green Pass è un contributo per incentivare le vaccinazioni, un po' come sta avvenendo in Francia, dopo abbiamo visto che grazie all'iniziativa di Macron c'è stata un'impennata nelle vaccinazioni, perché le persone tendono a vaccinarsi per non avere limitazioni rispetto alla possibilità di andare al ristorante, allo stadio, prendere l'aereo e io credo che sia giusto chiedere il Green Pass. Se uno non vuole vaccinarsi, magari cena a casa e non va al ristorante e non mette a rischio la salute degli altri, la partita se la guarda sul divano in televisione e non allo stadio, non mi sembra una grossa limitazione, perché uno deve pensare non solo alla propria salute, ma anche a quella di chi gli sta intorno. Ma secondo lei, onorevole Bosco, scusi se la interrompo poi passo la parola.